È un buon gioco, credo a loro che hanno sbagliato e hanno fatto l'inizio. Abbiamo pensato di giocare bene nella prima parte e nella terza quarta, e poi hanno lasciato tornare in gioco, ma hanno fatto tanti scopi. Abbiamo giocato bene nella prima metà della partita, nel terzo quarto così e così, mentre nel quarto quarto abbiamo lasciato che il Reggio rientrasse in partita. Hanno messo dei seri importanti, però alla fine in questa serie può succedere. Adesso siamo sull'1-1 e ci concentriamo per le prossime. Certo, sentiamo che siamo una squadra migliore, sono sicuro che sono una squadra migliore. È una serie di 5-game per una razza, ci dà il tempo per dimostrare chi è la squadra migliore. Credo che abbiamo giocato bene, per la maggior parte. La prima parte del primo gioco ovviamente non abbiamo fatto bene, ma da ora credo che abbiamo giocato bene per la maggior parte. Abbiamo più giocati per dimostrare che siamo migliore. Sì, ovviamente noi pensiamo di essere migliori di loro, loro altrettanto saranno migliori di noi, però ecco perché queste serie sono al meglio delle 5, perché le squadre hanno modo di mostrare chi è veramente poi la più forte. Noi a parte i primi due quarti della prima partita abbiamo giocato sempre piuttosto bene, quindi questo ci dà la motivazione per andare a giocare là e cercare di portare a casa la vittoria. In Reggio troviamo il gioco molto caldo, non so se per la temperatura, ma sicuramente per le persone, è qualcosa per essere preparato per andare a giocare. Sì, ricordo il nostro primo gioco contro loro e credo che era un gioco difficile da giocare in, i loro fani sono fantastici, hanno dato molta energia a casa, ma questo è quello che è il gioco, se vogliamo fare fino alla fine, se vogliamo vincere la championship, bisogna vincere sulla strada, e questo è quello che stiamo facendo, solo andare in là, giocare hard e cercare di venire. Sì, abbiamo giocato la nostra prima partita, quindi conosco un po' il campo, in effetti è molto duro giocare là, però alla fine se vogliamo arrivare in finale e magari vincere anche il campionato, dobbiamo affrontare tutte queste situazioni, quindi l'unica cosa sulla quale dobbiamo concentrarci è andare là e giocare bene.